Un infermiere che possa raggiungere a domicilio il cittadino per un'iniezione, una medicazione o comunque interventi che possano risolvere piccole problematiche. È il servizio messo a disposizione dalla Misericordia di Arezzo e che sarà in vigore dal primo di agosto ogni giorno dalle 9 alle 11, festivi e prefestivi compresi, ad esclusione del 15 di agosto. È un servizio che si chiama self care, significa che una persona deve prendersi cura di se stessa, la persona deve restare persona a qualsiasi età e quando ha bisogno di un servizio noi possiamo farlo come misericordia attraverso prestazioni professionali con i nostri infermieri ma anche attraverso un servizio di volontariato di relazione, rendere contemporanea la misericordia a favore della città di Arezzo. Sarà possibile richiedere questo tipo di intervento grazie ad un numero dedicato, il 348 51 60 880. Quindi troverà già una risposta immediata su quelle che sono le, per alcune cose, oppure se c'è necessità ci proietteremo secondo un calendario ben strutturato, a domicilio per effettuare questa prestazione che viene richiesta e guardare un pochino quali sono le problematiche che il nostro cittadino ha. Ovviamente ci affidiamo a degli infermieri che hanno già una bella esperienza in questo campo, per cui è anche possibile che il nostro infermiere possa rilevare alcune situazioni importanti che verranno poi riferite al medico curante o al servizio di assistenza domiciliare, in modo da integrare bene questo doppio aspetto.